la missione si è abbassato di pareccia non c'è il perchè ma si è abbassato ah ma è qua una borsa di zuppa di pollo andiamo un'altra volta qua una zuppa di patate adesso mamma mia fanno scocciare così però non so l'inquieto di trasformare ok vabbè facciamo queste leggi promulghiamo un editto mamma mia è un po' difficile questo gioco il dato qua è troppo basso ah ah toccata poi li fanno così e poi questo gioco lascia desiderare certe volte c'è una legge ok promulghiamo questa andiamo a comprare patate la gente che è soddisfatta di me wow sto contento la gente che è soddisfatta di me sono stato un buon imperatore finora dai ok cibo dobbiamo prendere patate patate patata patata tante patate prendiamo la patata se le comprano tutte quante dai tutti i editti respinti quindi devo fare un altro dobbiamo promulgare un altro mettermi a casa che ti faccio pure mangiare ignorante perché sempre a degradazione mamma mia fai una cosa stomma scusate il dialetto promulghiamo un altro editto dobbiamo fare la vita politica e poi dobbiamo fare la gioppa di patate la riduzione dei tazzi sui banni importate ah se mi è necessario da un terreno di cappone ok poi poniamo questo perfettissimo ok e poi di patate vai bisù di papà ci prendiamo un salamando perfetto tanto ma c'è qualcos'altro da cucinare ah di la verità non di mettere siamo stati graziati questa volta da andiamo a consegnare il cibo speriamo l'editto viene proposto questo io voto per questo eh mamma mia ma la gente che vuole da me che dobbiamo fare più facciamo così speriamo finisce subito questa missione ok sta migliorando i rendimenti anche forse sei d'argento non ancora guarda che indossiamo questi bassi dai indossali bravo 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 la sfida dei pescatori sistema di famiglia un graffiere molto affamata ah un graffiere non un graffiere facciamo questa qua no no facciamo questa facciamo questo ok chiedi al consigliere della stanza della famiglia perfetto andiamo avanti penso che cioè non molto cederò no dai facciamo giusto un altro po' cosa è uscito più una lettera per i parenti e ora dovremmo inviarla vero? bisogna mettere i parenti voglio promulgare un editto giusto che quello l'abbiamo fatto ma cosa è svantaggio di un altro regno voglio dire fare una dichiarazione di guerra ok facciamo la prima che c'è da fare facciamo così chiedi di preparare per il parente siamo pur sempre il monarca noi deve essere il nostro parente questo dobbiamo fare adesso segui il parente fino alla piazza cittadina giurita dei costruttori dai ho votato benissimo la verona si sarà la famiglia di qualsiasi costruttore importunato sul lavoro finché questi non potranno ripetere dall'attività ci vuole più gente che vota però la gente non sa votare questo è il problema vota male perché non sa con i miei geniamenti che scudiamo della piazza cittadina poi guardiamo stanno nella famiglia ok pressione sociale che reagirà dai dai tonne sputare nel pozzo hai perso il senno vieni 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 così ci impareranno segui il parente fino al porto ok perfetto andiamo fino al porto beh ci siamo messaggi al porto finora siamo molto stanchi non fa niente brutto il nostro imparato però non mi piace ah usa il parente poi lei è il maschio a me è questo senso vediamo ma stanno nella famiglia servitore gogna divertimento intendo mettere la gogna al mio servitore stai sento grosso cugino ah ah il servitore è la mia che non è lasciami in pace questa copia ingrandita di gattolo e me la visiterò da solo cioè praticamente non mi sta bene il fatto che tratto bene il mio imparo se vuole io lo sfido duello non so se neanche la forgia dobbiamo volare con questi altri cugini paranti discutiamo del parente scortese e poi andiamo a dormire perché ce ne vuole oh grazie pure del cibo si è preparato una ciotola di stufato del cacciatore grande porzioni multiple è proprio una multijet ah ho finito con la registrata qui registrava pure un po' di minecraft 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 stessa cosa andiamo la technipatch chi è la sua scocciatura prima mattina non so ma che devono farli in silenzio non è molto diartante scrivi due nuove leggi chiedi a due cittadini come si vive a rayton king ma lo so ma che la scocciatura fa queste cose giornaliere ogni tanto cioè non tanto scrivere le leggi però non andare a ciappola con i cittadini vuoi capire quale imperatore nella vita reale fa uno se è già ti metto parola la gente scriviamo queste leggi però ci stiamo svegliando ci vuoi troppo tanto asciogli a dormire e io non tengo tempo alla parda infatti puoi sta mangiata perfetto 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 facciamo 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 tanto da parte che qualcuno mi dasse la manta mamma mia facciamo sempre la corte non facciamo sempre le stesse cose non facciamo sempre le stesse cose ma non facciamo sempre le stesse cose non facciamo anche le stesse cose ma non facciamo anche le cose non facciamo sempre come si vive ok vediamo un po' che trattamento dovrebbe riservare tonking al cuggino già questo imbroglione è ingannato in origine per troppo tempo ora devi pagarlo, salve il pitano, no dai, uccidiamolo deve schiattare il mostro della fossa ha fame, è un genio di corrente al suo menu ok lo sfidiamo a due alma giustizia il gesù cuggino, perfetto giustizia con la spada finalmente qualcosa di più divertente, giustiziare è una cosa bellissima il tristo ammettitore di Disney's Mario, vado, vado perfetto, abbiamo vinto un'altra missione c'è altre due ce ne sono una sfida di pescatore facciamo questo oppure questo vado facciamo l'incendimento dei libri per te c'è questo mio discorso di premio di scato di mezzo attuali rapido, rapido, vabbè ok proseguiamo da questa parte, ispezione, incendimenti alla foresta quindi dobbiamo andare, foresta abbiamo un po' ispezionale si fia duello facciamo qualcosa di divertente ogni tanto speriamo di vincere la drama spero di sì, anche se abbiamo un po' le armature iniziali mi interessa di essere stanco andiamo a vedere un po' muoviti dai voglio vedere la battaglia fino all'ultimo sangue e non ho fatto l'usere che sei andato ma bella fatta con lo orsini ma bella fatta con lo orsini con teila con teila vabbè vero vabbè ok 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 In questa parte vi dico che chiuso, ci vedremo e a breve vedete anche The Sinistral Supernatural cominciamo Let's Play su quella serie, sarà molto più divertente, arrivederci!